Irene Bozzi ha consegnato a Gianni Siviero un ricordo del Club Tenco. Come sapete questa prima rassegna d'autore è organizzata dal Club Tenco, Club Luigi Tenco di Sanremo, un club che ha lo scopo fondamentale non solo di ricordare la figura di Luigi Tenco, ma soprattutto di portare a conoscenza del pubblico questi cantautori conosciuti, ma soprattutto gli sconosciuti. Bene, ora vorrei che Sergio ritornasse qui per Sergio, quale non so perché è emozionatissimo. Non hai capito che una mano che ha stretto il badile per una giornata non può farti carezze leggere o raccoglierti un fiore, che una bocca che ha detto bestemmie per dodici ore non può dirti parole d'amore, ma solo mangiare. non hai capito che il sudore ha coperti i miei occhi e non ho visto il sole e ora il sonno li chiude e il tuo volto non ha più colore e non sai che badile e non sai che badile e sudore, bestemmie e dolore sono il mazzo di fiori che ho colto, son tutto l'amore che sento per te. che sento per te, che sento per te, che sento per te. Che sento per te, che sento per te. Signore, seguito. E che sento per te, che sento per te. Che sento per te? Magali.